L'amministrazione comunale di Castione non ha richiesto finanziamenti, è quanto dichiara il nuovo gruppo Vivi Presolana che si presenterà a Castione per le prossime elezioni. Sentiamo nel servizio di Nicola Andrioletti l'intervista a Mauro Pezzoli. La lista civica Vivi Presolana punta ancora una volta il dito contro l'attuale amministrazione comunale di Castione. Secondo voi si stanno perdendo in questi mesi importanti occasioni? Quali ad esempio? Sì esatto, noi stiamo valutando un po' l'operato di questa amministrazione e dall'analisi che stiamo facendo si evince proprio che si sono perse grosse opportunità per il Comune di Castione la Presolana. La più evidente è quella del bando regionale per i comuni al di sotto di 5 mila abitanti nel quale la Regione Lombardia ha stanziato oltre 53 milioni di euro per i piccoli comuni con progetti fino a 300 mila euro e nel quale Castione la Presolana è assente. Assente non per vizi di forma nei progetti presentati ma proprio perché non c'è stata nessuna progettazione. Per cui secondo noi c'è un isolamento completo di Castione della Presolana e in questi periodi di crisi i momenti in cui i trasferimenti dello Stato e delle regioni verso i comuni sono sempre più mirati e più specifici, quindi non avere progettualità, non avere idee è veramente un danno per i cittadini. Un altro bando secondo voi trascurato è quello dei distretti del commercio? Esattamente, Castione secondo noi ha perso l'opportunità di aggregarsi a quello che era il distretto del commercio di Clusone. I distretti del commercio sono l'unica forma di finanziamento per il settore commerciale messo in campo dalla Regione Lombardia che ovviamente promuove l'aggregazione ai più comuni. Questo purtroppo in questi periodi di crisi e con la situazione commerciale del giorno d'oggi secondo noi è veramente dannoso per tutta la comunità di Castione della Presolana. Un altro sintomo veramente importante è stato quello della mancanza di sensibilità da parte dell'amministrazione riguardo all'illuminazione del capoluogo nelle festività natalizie. Se un singolo commerciante non si fosse data da fare per presentare il paese in modo decoroso avremmo avuto Castione del capoluogo senza le luminarie natalizie. Secondo noi l'amministrazione comunale e in special modo l'assessorato al commercio doveva in questi anni sensibilizzare maggiormente i commercianti e farsi carico di coordinare un'azione più decisa sul territorio per quanto riguarda l'accoglienza dei turisti nel nostro comune. Il gruppo consigliare dell'intesa a cui abbiamo chiesto una replica ci ha comunicato che non intendiamo partecipare al baccano che questo gruppo sta facendo per darsi visibilità. Costatiamo solo che non ha una minima conoscenza dell'attività amministrativa svolta né ha mai dato alcun tipo di contributo al dibattito amministrativo e a titolo esemplificativo. Ricordiamo solo alcuni finanziamenti come ad esempio i 6 milioni di euro per l'ex colonia Dalmine, i 600 mila euro per i lavori idraulici che partiranno a breve e i fondi per la sistemazione della strada per il Pora. Questa è la replica della maggioranza.